La garanzia dei diritti delle persone prive della libertà per motivi sanitari. È stato questo il tema della conferenza tenutasi nell'Aula Consiliare della Regione Puglia, la prima in Italia a estendere le competenze del garante regionale dei diritti delle persone private della libertà anche sui contesti sanitari in cui di fatto una persona si trovi nelle condizioni di non potersi allontanare autonomamente da una struttura sanitaria. È prevista adesso l'estensione delle competenze in tutte le situazioni in cui un soggetto, soprattutto quando attinto da fragilità, si trova privato della libertà di fatto per motivi legati alla sanità, per motivi legati alla salute individuale. Dalle residenze per anziani a quelle di accoglienza, cura di persone disabili, dalle comunità terapeutiche per le dipendenze patologiche alle strutture che ospitano malati psichiatrici, il campo applicativo è ampio. Abbiamo bisogno di una territorialità, cioè abbiamo bisogno, perché l'Italia è lunga, di avere un controllo soprattutto su strutture quelle sanitarie che sono così diffuse lungo tutta la perisola, di avere un controllo di riferimento da interlocutori regionali e talvolta nei grandi comuni, soprattutto anche comunali. Un confronto a tutto tondo tra gli attori del sistema sanitario e socio-sanitario, delle istituzioni regionali e delle ASL per condividere linguaggi, decisioni e modus operandi. Noi del sistema sanitario regionale, insieme anche al garante e ovviamente anche a tutti i servizi sociali che operano nell'ambito dei comuni, devono attuare un modello stabile, funzionale, di monitoraggio di quelli che sono i bisogni non soltanto di natura assistenziale, clinico-medica, ma soprattutto anche di natura sociale, familiare, educativa. Parliamo anche dei ragazzi.